Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV inizia una nuova settimana in compagnia di Casa Rossini e dei suoi ospiti. Siamo in diretta come ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 andremo avanti fino alle 11, un quarto circa con tre ospiti, ve li annuncio dopo però perché come sempre iniziamo parlando un po' della giornata. Oggi è quello che viene definito il Blue Monday, sarebbe il giorno triste oggi, andate a vedere se volete approfondire un po', adesso non sto a darvi i dettagli. In realtà noi tristi non siamo, per cui speriamo di contagiarvi un po' con questo nostro umore positivo che dovrebbe contrastare in qualche modo il Blue Monday. Il cielo azzurro di oggi contrasta con tutte le più fosche previsioni del tempo che davano addirittura allarme meteo e neve fino a basse quote. Vediamo cosa succederà, per adesso io sono arrivato ormai da un quarto d'ora, fuori c'era un sole magnifico, da qua adesso non si vede più ma presumo che la giornata per ora ancora non volga al brutto. Oggi è il 18 gennaio e ovviamente il diciottesimo giorno dell'anno e mancano 347 giorni alla fine dell'anno e secondo il nostro librone, quello a cui ogni tanto attingiamo, è il giorno delle fantasie infantili. Non c'è stata nessuna giornata dedicata particolarmente, cioè non c'è nessun argomento al quale la giornata è particolarmente dedicata oggi, ma ieri era la giornata internazionale della pizza e la giornata mondiale del pizzaiolo. Noi quando parliamo di pizza naturalmente ricordiamo che Pesaro è la città della pizza Rossini, c'è tutta una storia intorno a questo. Quest'anno purtroppo non si è potuta tenere la tre giorni dedicata alla pizza Rossini, ma magari tornerà presto e nella prossima estate. Comunque ricordate che appunto il 17 gennaio, cioè ieri, era la giornata internazionale della pizza e mondiale del pizzaiolo. Questi sono dei pizzaioli acrobatici che hanno addirittura vinto dei premi. Oggi invece, il 18 gennaio, si celebra Santa Margherita d'Ungheria, principessa ungherese che divenne suora dominicana e venerata come una santa dalla Chiesa Cattolica. Anche su questo vi invito ogni tanto, quando vi propongo queste cose, vi invito anche ad andare a approfondire. Ovviamente non siamo qua per questo, siamo qua per dare stimoli e spunti, però vi invito anche ad andare a approfondire perché è anche divertente. Io ci perdo un sacco di tempo, dico la verità, quando preparo queste puntate, perché poi mi diverto a seguire il flusso dei link e degli ipertesti su internet e andare a scoprire cose interessanti. Per esempio, alcuni eventi storici del 18 gennaio, 1778, James Cook è il primo europeo a scoprire le Hawaii, cui dà il nome di isole Sandwich. Questo è il comandante Cook, a lui sono dedicati i posti più belli del mondo, questa è la baia di Cook. Insomma, seguendo anche qui le strade del grande navigatore di fine Settecento, si scoprono luoghi meravigliosi. Nel 1896 viene mostrata invece la prima macchina a raggi X, o raggi Röntgen, dal nome del fisico tedesco, che si chiama Wilhelm Conrad Röntgen, che li ha scoperti. E questo è lui, e questa è la mano della moglie, che si chiama Berta, che ha subito la prima radiografia, vedete che c'è anche l'anello, ha subito la prima radiografia. Nel 1944 invece, questo è il laboratorio di Röntgen per realizzare i raggi X, invece nel 1944 al Metropolitan Opera House di New York, c'è stato il primo concerto jazz che si è realizzato dentro questa struttura. Si sono esibiti Armstrong, Benny Goodman, Lionel Hampton, Artie Shaw, Roy Eldridge, Jack Teergarden, insomma una band che poi rimane memorabile anche solo dal punto di vista delle individualità dei musicisti coinvolti. 1983 il Comitato Olimpico Internazionale restituisce le medaglie olimpiche a Jim Torp e ai suoi familiari. Questa è una storia particolare, Jim Torp era stato un multiplista, che è praticamente quella disciplina che prevede più cose, diciamo il biathlon, il triathlon, il pentathlon, per capirci, quello è l'attività dei multiplisti, ma è stato anche giocatore di football americano e giocatore di baseball. Ha vinto due ori olimpici nel pentathlon e nel decathlon, però questi ori gli sono stati ritirati perché lui appunto era un professionista del baseball. Dopo molti anni, perché tutto questo succedeva, appunto lui è morto nel 1953, dopo 30 anni c'è stata questa restituzione delle medaglie ai figli, che naturalmente ne sono stati contenti, però insomma un po' tardi, un po' tanto tempo ci hanno messo. La frase del giorno, la giocosità dell'universo si rispecchia nella danza delle stelle, e dopo questo siamo finalmente pronti per andare a scoprire il primo degli ospiti della giornata e diamo il benvenuto ad Alberto Moretti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Alberto. Allora, Alberto Moretti è un nome nuovo forse per qualcuno a Pesaro, perché Alberto Moretti è proprietario, titolare proprietario di Spazio Conad, Spazio Conad è il grande ipermercato Conad all'interno del Rossini Center, per intenderci, e è stato fatto questo cambio, perché per Pesaro naturalmente era sempre rimasto con la vecchia denuniazione, dal 7 febbraio 2018, giusto? Per cui siamo in procinto di festeggiare i due anni, insomma. Sì, siamo in procinto di festeggiare proprio i due anni, 7 febbraio 2021, facciamo due anni di attività. L'ipermercato era nato oltre 20 anni fa con un'altra insegna, l'insegna Iper, da un paio d'anni Conad l'ha rilevato e attraverso la gestione della società Alba, che è una società di mia proprietà, oggi è gestito con passione, con perseveranza e con una voglia notevole di stare in questo mercato per poter soddisfare, ma soprattutto anche costruire una relazione importante con i cittadini e con la clientela pesarese. Noi abbiamo conosciuto Alberto, con il quale ci diamo del tuo, abbiamo conosciuto Alberto l'anno scorso in particolare in occasione della realizzazione di Masterfish, per cui c'è stata questa bella collaborazione, ma i pesaresi erano rimasti tutti un po' stupiti quando c'è stato questo cambio di insegna, che invece si inserisce perfettamente in una logica di filosofia di Conad, giusto? Sì, la filosofia di Conad è quella di presidiare il mercato attraverso la soddisfazione di bisogni, prevalentemente di origine alimentare, però un ipermercato ovviamente è molto ampio, molto vasto, ci sono anche dei reparti importanti, soprattutto questo qui di Pesero, dell'extraalimentare, ma lo vuole fare con uno spirito innanzitutto competitivo. Io ricordo sempre che noi sulla piazza della provincia di Pesero siamo, come insegna e come ipermercato, i più competitivi da oltre due anni attraverso delle indagini che vengono svolte da società terze. Lo vogliamo fare in modo competitivo sui prezzi, lo vogliamo fare sulla qualità, sulla professionalità, sulla relazione con il cliente e soprattutto nel vivere quotidianamente la comunità, il territorio. Questi sono gli asset attraverso i quali Conad e un'azienda anche come la mia vuole fare impresa e stare nel mercato. Quando abbiamo pensato di invitare Alberto qua ci siamo un po' confrontati sui temi, naturalmente sarebbe stato facile parlare e fare pubblicità, fare una gran pubblicità e aggiungere un po' di notarietà, ma a noi interessa approfondire diversamente un po' l'argomento. E allora la riflessione è stata questa, Spatio Conad vede il movimento di migliaia di persone al giorno e da lavoro a 200 persone, cioè a 200 famiglie. Forse adesso più che mai, ma in ogni momento, potrebbe essere un punto di vista privilegiato su quella che è un po' proprio la realtà attuale e anche la realtà del nostro territorio. Io dico sempre che se uno vuole conoscere una comunità, conoscere un territorio, l'osservatore privilegiato è proprio quello dell'ipermercato, del punto vendita. Perché, come hai detto giustamente te, ci sono tante persone che ci lavorano, ma soprattutto tanti clienti che vengono a fare le spese. Clienti che ovviamente possono essere di sesso diverso, di estrazioni culturali piuttosto che sociali diversi. In questa fase, da un anno a questa parte, è evidente che la situazione che stiamo vivendo ha cambiato enormemente lo stile di vita e di consumo di ognuno di noi. Ci tengo a dire che non stiamo vivendo una gara di velocità, stiamo facendo una maratona. Questa maratona, forse possiamo pensare di correrla, in questo momento stiamo facendo a stento il primo pezzo, i primi 20 chilometri, sperando di vincerli, mi viene da dire, negli ultimi 200 metri. In questo momento qui, in questa maratona che ormai si protrae da oltre un anno, si rileva che anche il cliente ha cambiato molte volte il modo di comportarsi. Sicuramente hanno influito tutte le normative, tutti i DPCM, tutti i vincoli che sono stati imposti, ma forse anche un altro elemento che sta creando, certe volte, paura, è la mancanza di fiducia. Questo non fa altro che modificare certi atteggiamenti e far sì che alcune cose che prima erano scontate, il giorno dopo sono completamente diverse. La fortuna di vivere quotidianamente queste relazioni fa vedere che, tornando indietro col tempo, magari un anno fa c'era una corsa all'accaparramento di prodotti, di beni di prima necessità, quasi che tutti fossero diventati dei fornai piuttosto che dei pasticceri, ricordo solo la vendita folle del lievito di birra piuttosto che delle farine. attenzione che dopo ci sono state delle fasi dove magari la gente si è dedicata alla casa, alla famiglia, magari comprando molti prodotti piuttosto che oggetti per gratificarsi all'interno delle mure domestiche. C'è stato un boom dell'acquisto dei computer, dell'informatica. Ultimamente c'è stato un grosso incremento nel settore, soprattutto con le feste natalizie, delle vendite di prodotti di alta qualità. Perché? Perché la gente, giustamente, non potendo, ahimè, frequentare ristoranti, bar, ha cercato di fare quello che non poteva fare all'esterno delle proprie mure domestiche e di farlo internamente. Questi sono tutti aspetti che hanno modificato completamente i consumi, che hanno modificato enormemente i comportamenti delle persone e che, in un certo qual modo, da parte nostra, che viviamo, ripeto, costantemente, questo tipo di settore di mercato, abbiamo e misuriamo costantemente. La domanda è sempre quella cosa succederà domani, perché noi viviamo quotidianamente con delle normative che ci vengono dichiarate il venerdì sera e spesso e volentieri ci troviamo, dopo neanche 24 ore, non solo a organizzare un'organizzazione complessa come può essere quella di un ipermercato, dicevi te, nel mio caso specifico, ci sono oltre 200 dipendenti, ma soprattutto quella anche di governare tutto quello che è la filiera degli approvvigionamenti e delle merci. Cosa che, grazie a Dio, non è mai venuta a mancare, siamo sempre stati in grado di sostenere adeguatamente, ma che richiede, come puoi immaginare, uno sforzo organizzativo notevole. Certo. Mi vengono chiaramente tante domande. Tra queste, per esempio, il discorso che appunto il centro commerciale ha aperto da tanti anni, io me lo ricordo quando è stato inaugurato, anche perché avevo un'attività o ancora un'attività comunque che organizza cose e avevamo partecipato all'apertura, all'inaugurazione, e ricordo benissimo che per Pesaro era percepito come un posto lontanissimo. Nel tempo poi si sono realizzate le strade, è stata fatta l'interquartieri, si è molto avvicinato comunque alle abitudini e anche fisicamente come distanza, e a un certo punto poi c'è stato questo cambio. Il pesarese, come ha percepito, perché la fidelizzazione al marchio, la fidelizzazione a dove trovare le cose, eccetera, credo che sia uno degli elementi fondamentali nella frequentazione di un ipermercato. È rimasto sconcertato? Sono più quelli persi di quelli guadagnati? Cioè, cosa è successo? Oppure non è successo niente? Io devo dire che la novità porta sempre un momento di, passami il termine, non dico confusione, però di paura nell'affrontare il nuovo. Tempo però di capire di cosa si tratta e dopo ognuno di noi è in grado di giudicare la consistenza, quello che c'è dietro, i valori che stanno dietro ad ogni offerta. E devo dire che se devo fare una valutazione a distanza di qualche anno, il ritorno è estremamente positivo, molto positivo. Noi lavoriamo per avere una vicinanza che non vuole essere solo fisica, ma vuole essere anche emotiva nei confronti del cliente. Ci crediamo molto in questo aspetto. Ovviamente nel momento in cui ci sono le strade, ci sono i mezzi, c'è la possibilità di muoversi, fare quei due o tre minuti di macchina non diventa più un peso. Il limite poteva essere all'inizio, se torno anche qui indietro a febbraio dell'anno scorso, quando c'era una normativa che ti obbligava a stare dentro il proprio comune e di uscire per fare la spesa nel punto vendita più vicino. Quello ha evidentemente avvantaggiato tutti quanti quelli che erano i negozi che si trovavano sotto casa. Superato questo aspetto che è durato il tempo di qualche settimana, dopo la gente ha volutamente cercato i negozi che gli diano un maggior servizio in termini di offerta, ma soprattutto di sicurezza e comodità. Avere una grande offerta, un grande assortimento e dei grandi spazi, oggi come oggi sono quegli aspetti che fanno la differenza per trasmettere anche quella sicurezza che tutti noi andremo a cercare da oggi in poi. Perché sono cambiati la scala dei valori e della scelta, delle cose che facciamo. E in questo momento il presupposto che sta alla base di ogni scelta è quello della comodità, ma soprattutto della sicurezza. Qui stiamo lambendo un tema che è delicatissimo, perché stiamo lambendo il tema della convivenza tra i negozi di vicinato, quelli che vengono definiti i negozi di vicinato e i grandi ipermercati e la grande distribuzione, tra l'altro con un passaggio trasversale da parte delle associazioni di categoria, perché le associazioni di categoria che giustamente in qualche modo conducono battaglie ben decise a favore dei negozi di vicinato, dei piccoli negozi, poi si ritrovano anche coinvolte come fornitore di servizi invece, magari a favore della grande distribuzione, perché curano, che ne so, le paghe piuttosto che altre attività. Per cui diciamo, l'equilibrio è delicato, c'è spazio per tutti? Guarda, io ti parlo perché da due anni sono un imprenditore, ma sono stato per 25 anni un manager e sono stato a capo, diciamo, della direzione marketing e canali distributivi di tutto il sistema Conad. Conad è un'azienda molto importante, è leader in Italia, molto capillare, ha oltre 3.000 punti vendita e i punti vendita Conad sono i punti vendita molto piccoli, ma anche i punti vendita grandi, come può essere lo spazio Conad di Pesero. Bene, il fatto di saper stare sul mercato con negozi piccoli di prossimità e negozi grandi di attrazione fa sì che ci siano le condizioni per soddisfare bisogni ed esigenze diverse da parte della clientela. Qui non c'è una, passami il termine, battaglia piuttosto che valutazione se il piccolo è meglio del grande o il grande è meglio del piccolo. Qui c'è la necessità di saper stare sul mercato per soddisfare al meglio quelli che sono i bisogni della cittadinanza, dei clienti. E in un mercato libro, come fortunatamente noi tutti quanti operiamo, ci sono le condizioni per vivere e lavorare al meglio, per far sì che questa gratificazione, questa soddisfazione sia realizzata. Il caso di Conad è emblematico, perché c'è spazio per il piccolo e per il grande, perché oggi il cliente può e deve avere esigenze diverse e può e deve trovare soddisfazione a bisogni diversi. Per cui diciamo che la tesi è c'è la possibilità di convivere. Adesso ti faccio un'altra domanda. Arrivi da fuori, non sei ovviamente pesarese, stai diventando tra l'altro anche pesarese di adozione, ma ancora nemmeno quello, perché comunque ancora risiedi non a Pesaro, giusto? No, io vivo a Rimini, faccio ancora il pendolare. Allora, arrivi da fuori, però arrivi con un ruolo importante, mi viene da pensare al paesino dove le autorità sono il sindaco, il parroco e il medico e l'insegnante. Ecco, tu arrivi da fuori con un ruolo molto importante e arrivi in una città che ha necessità di relazionarsi con queste strutture importanti. Per esempio fai parte da poco del Consiglio di Amministrazione del Banco Alimentare. Come è stato questo inserimento? Di Pesaro si dice molto spesso che Pesaro è molto chiusa, eccetera. Hai gli alti livelli? Pesaro è chiusa o Pesaro è pronta ad accogliere un titolare manager di un'attività così importante come è la tua? Io non volevo essere un discorso di plagio, però mi sono trovato a casa. Questa è una realtà a misura d'uomo, è una realtà dove si vive bene, è evidente che è una città che ha avuto un momento di crisi derivante da una situazione economica che la può avere anche intaccata, ma non l'ha colpita. C'è lo spazio e c'è la volontà, ma ci sono anche, penso, le persone per trovare stimoli e opportunità di crescita. Ahimè questa situazione ha in questo momento un attimo rallentato un certo tipo di percorso, ma penso che ci siano i presupposti per ripartire in modo significativo. Ma lo dimostra anche l'entusiasmo che si può trovare ogni qualvolta qualche iniziativa parte e man mano nel tempo cresce e trova anche il coinvolgimento da parte di tutti. Vedi, oggi nel caso mio un ipermercato che sta crescendo enormemente in termini di frequentazione di affluenza, fa sì che tutti coloro che ci gravitano intorno trovino degli stimoli e dell'entusiasmo che magari poteva essere soppito nel corso degli anni. Ma è un qualcosa che magari, stando dentro in questo studio, vedo il riferimento alla squadra della palacanestro di basket. Esatto, era lì che arrivavo. Hai avuto dei momenti difficili, ma il fatto anche di trovare un coinvolgimento da parte di tutti coloro che hanno saputo crederci, ha fatto sì che oggi siamo qui a godere anche di risultati significativi. Io lì arrivavo. Cioè quanto conta poi dopo però quel punto anche l'attitudine personale? Perché un conto è arrivare con un ruolo, un conto è ricoprire un ruolo, un conto è essere disposti a farsi coinvolgere. Ti ho visto in questa conferenza stampa di presentazione della card della VL con un coinvolgimento che è sì un'operazione anche se vogliamo commerciale, però è soprattutto un'operazione di partecipazione a un tema importante per la nostra città come quello della VL con tutte le lacrime degli ultimi anni e le gioie invece degli anni trascorsi. Conta credo anche un po' la voglia di farsi contaminare in questo senso positivo in questo caso? Guarda, io credo a un presupposto che un imprenditore, ma penso anche un cittadino, deve saper tornare al proprio territorio quello che quel territorio, quella comunità gli dà. Non deve tornare ovviamente tutto, ma ricordarsi di dare. Per cui in questo spirito ognuno di noi deve fare qualcosina. In questa logica, parlando in questo caso magari con Ario Costa e Walter Magnifico dell'iniziativa della VL, appena ci siamo confrontati sull'iniziativa non ci sono stati dubbi nel dire facciamo così e noi magari come Spazio Conad partecipiamo con questo tipo di supporto. Ma non è solo quello, perché è, passami il termine, l'aiuto che è stato dato quando il Comune ha dato le card dei buoni per aiutare le famiglie meno abbienti per fare la spesa, io ci ho messo un ulteriore 10% sopra, in modo tale che quel valore di 100 valesse 110 ed era un altro piccolo aiuto nei confronti magari di coloro che potevano avere più bisogno in quel momento. È un modo importante di fare impresa perché vuole non solo tornare qualcosa a quel territorio che ti sta dando, ma soprattutto vuole essere parte integrata all'interno di una comunità, vivere i valori di quella comunità. È ovvio che dopo chi fa politica fa un mestiere, chi fa impresa ne fa un altro e ci deve essere giustamente il giusto riconoscimento di ruoli e di responsabilità, ma ci deve essere anche la volontà di costruire qualcosa per il bene di tutti. Una curiosità personale, cerco di interpretare quello che può essere una curiosità anche dei nostri telespettatori, perché poi quello è l'obiettivo di raccontare cose anche piacevoli, divertenti e curiose. Hai fatto tutto un percorso all'interno di Conad come manager, avevi un ruolo di quella rilevanza e quell'importanza, hai fatto il passaggio da manager a imprenditore, pensano come è stata scelta? Guarda, è nato da un percorso articolato in questo senso. Io ho chiuso un'operazione che era quella di prendere degli ipermercati che erano in capo a una società che era il gruppo Finiper e venivano dati a Conad. Visto che mi trovavo in una situazione di vicinanza geografica, Rimini-Pesero, e nella volontà di coronare un percorso all'interno della mia esperienza professionale, ho, consultandomi anche con la mia famiglia, voluto fare il grande passo, passare da manager a passare imprenditore. E la possibilità di farlo in questo momento vicino a casa, ma un domani anche in casa, perché non escludo che mi trasferisca qui a Pesero, ha fatto sì che la cosa sia stata fatta con i giusti tempi, i giusti modi. Eri già a Rimini, per cui in qualche modo sapevi dove era, ma come viene percepita? Questa è la grande curiosità, non sai che il nostro sindaco è molto impegnato nell'obiettivo di far conoscere bene la città, ha tutti gli effetti anche fuori dal territorio. Ma fuori, come viene percepita? Pesero chi? Oppure in realtà comincia ad essere un nome che si identifica in qualche modo abbastanza bene, non solo sulla mappa geografica, ma sulla mappa mentale dell'Italia, insomma degli italiani. Io penso che Pesero ha una grande identità, ha un'identità, va bene, grazie magari a personaggi famosi, passami Rossini, piuttosto che a altre attività sportive, al distretto industriale. Ci sono tutti gli elementi per far sì che Pesero ha un vissuto positivo all'interno dell'immaginario collettivo. Se riuscisse anche a mettere a terra velocemente alcuni asset, alcuni valori che la contraddistinguono, può fare anche un gran bel passo. C'è qualcosa che non ti aspettavi e ti ha stupito in positivo e in negativo nell'avviare concretamente un'attività per la quale evidentemente eri preparato e che avevi scelto? Oppure sta andando un po' tutto come era in qualche modo programmato e programmabile? Guarda, io ritengo che è importante sempre pianificare e programmare delle scelte e dei percorsi, per cui non sono ad oggi, grazie a Dio, stupito da situazioni. Poi, se devo dire tra tutta, lateralmente questo Covid ci ha messo tutti quanti a dura prova e per certi aspetti ha superato alcune valutazioni di altro tipo. Penso che Pesaro rappresenti una realtà importante, ma anche una realtà qualificata, una realtà dove c'è un gusto del bello e un gusto nella ricerca della qualità. deve trovare entusiasmo. Eh, probabilmente hai detto la parola giusta, deve ritrovare entusiasmo, perché poi in realtà, a parte lo sport, però è lo sport nazionale, quello di darsi un po' addosso, non è solo locale, però a parte quello che non si può estirpare, quello sport lì è troppo, non so perché, ma è troppo divertente dire che siamo un macello e che va tutto male. Però a parte quello c'è una bella parte di Pesaresi che in questo momento, probabilmente è sotto shock e che invece deve ritrovare quell'entusiasmo. Allora, abbiamo veramente un minuto, in un minuto ti lascio concludere con quello che vuoi, oppure se vuoi fare un accenno alla card della VL, così facciamo anche un regalo agli amici. Beh dai, mi sembra doveroso che è quello di stare a fianco a questa squadra, ognuno lo può fare nelle svariate modalità, però questa iniziativa che è stata messa in campo è un'iniziativa nobile, un'iniziativa che in qualche modo può aiutare anche la squadra e poi giustamente ogni persona che la sottoscrive riceve qualcosa di importante. Ricordiamo che c'è appunto la possibilità di sottoscrivere la card di sostegno per la VL, si riceve un controvalore. Noi abbiamo messo a disposizione dei buoni spesa, per cui diamo un valore di 10 euro su 50 di spesa, diamo ben 5 buoni, tra l'altro spendibili fino al 31 di maggio e di conseguenza c'è quasi un rientro del 50% di quello che è il valore che rappresenta la carta. Anche perché la spesa la dobbiamo fare tutti, per cui è inevitabile. Bene, allora ringraziamo Alberto Moretti per essere stato con noi e recupero una piccola mia dimenticanza, mi serve anche per lanciare poi il prossimo ospite. Abbiamo da qualche tempo inaugurato l'idea di fare una domanda ai nostri telespettatori alla quale possono rispondere al 351 708 9977 oppure a cadarossini, chiocciarossinitv.it oppure attraverso i nostri social. Ho scoperto che invece di una domanda diretta, se si fa un sondaggio, potrebbe essere più facile decidere e optare. E allora mi serve per agganciarmi al prossimo ospite, che è Brunella Paolini della Biblioteca Oliveriana, per cui la domanda è libri in cartaceo, e state attenti a cosa rispondete, o in digitale. Questa è una bella domanda, io sono appassionato di libri da sempre e ho una mia posizione che poi svelerò dopo, quando sveleremo anche i risultati del nostro sondaggio. Ancora grazie ad Alberto, ci rivedremo magari in occasione di qualche altra iniziativa, ma soprattutto quando riusciremo a sbloccare questa situazione sospesa di Masterfish, che ci angoscia un po' tutti, perché in effetti andare a parlare e a lavorare all'interno di ristoranti, in un momento in cui il tema è veramente caldissimo, al di là della possibilità di farlo lo stesso, si parlava di farlo all'ora di pranzo, di trovare una soluzione, effettivamente è un po' mettere un dito in una piaga che in questo momento forse non ha bisogno proprio di Masterfish. Però al termine della maratona ce la faremo. Esatto, ce la faremo sicuramente. Bene, allora grazie, adesso andiamo in pubblicità e torniamo fra pochi minuti con il prossimo ospite. Avete iniziato a optare per la risposta al sondaggio tra libri cartaci e libri digitali, potremmo aiutarvi a fare la vostra scelta, anche grazie all'ospite che adesso è qui con noi, Brunella Paolini della Biblioteca Oliveriana. Ciao Brunella, buongiorno. Buongiorno, ciao Paolo, ciao a tutti e buongiorno, grazie. Benvenuta Brunella, nata il 6 novembre, prendo il librone, d'altra parte a chi si occupa di biblioteca non posso esimermi dall'andare a scoprire qualcosa nel librone. 6 novembre, vediamo cosa dice, dunque, 6 novembre. Allora, anche la più, aspetta, è il giorno della forza crescente, perché ogni giorno ha una sua definizione. Anche la più letargica delle anime può avvertire lo stimolo che proviene dalla forte energia di una persona nata il 6 novembre. Dopo va avanti, sono due pagine, non te le leggo tutte. Ti leggo solo chi è nato lo stesso giorno, Carlo Botta, che è uno storico che io non conosco, del 1766, non saprei, Ethan Hawke, invece, che conosco, attore del quale ho molto ammirato una trilogia, la trilogia che viene definita Before, Before Midnight, Before Sunset e Before Sunrise, che è di Linklater, te lo consiglio, e James Jones, che è il nome completo di uno scrittore statunitense. Il nome di uno scrittore statunitense. Vuoi pregi e difetti? Anche sì. Allora, energica, stimolante, ottimista, ci siamo? Direi di sì sull'ottimista, forse, non sempre, però ci provo. Ok. Difetti, troppo sicuro di sé? Ma no, sì. Direi proprio di no, anzi. Non mi ci riconosco. Per quello poco che posso aver capito, insomma, ti conosco da un po' di tempo, ma insensibile. No, no, questo lo cancello. No, questo no, assolutamente. Materialista, cancello anche questo. Anche questo, su difetti non ci siamo. Oggi il libro ne è un po' fallito, lo mettiamo via, proprio, oltre di sono... Oh, ragazzi, non ci si può prendere sempre. Una volta è capitato con mio nipote, tra l'altro, che gli ho fatto leggere, è rimasto esterrefatto, l'ha guardato tutto, ha detto, è impressionante come ci prende. Allora, di Urbino, sei a Pesaro, alla Biblioteca Oliveriana, è una biblioteca che, si diceva, i pesaresi percepiscono in maniera strana, no? È una biblioteca particolare, qualcuno non capisce se è una biblioteca come le altre, se ci si può andare a prendere i libri, oppure se è un posto solo, ecco, vediamo delle immagini. Un po' contribuiscono anche le ambientazioni, no? A dare un tono un po' austero e così, e fa pensare a questi film, magari, delle università americane. È un posto bellissimo, tra l'altro. Noi siamo qui per sfatare un mito negativo, cioè la Biblioteca Oliveriana è una biblioteca, no? Però anche rafforzarlo, da un certo punto di vista, in positivo, cioè non è una biblioteca come le altre. Allora, spiegami e spieghiamo ai nostri telespettatori perché abbiamo elaborato questa specie di frasetta un po' enigmatica, no? Allora, innanzitutto grazie per avermela fatta questa domanda, perché in realtà tante persone ci chiedono ma è possibile entrare in biblioteca, è possibile prendere un libro, è possibile consultare, ma è aperta a tutti, ma è aperta, ma è una biblioteca? Cioè queste sono le domande che molto spesso, devo dire, ci sentiamo rivolgere. E quindi sono contenta adesso anche di dirlo a te, di fronte, insomma, anche in questa occasione, per cui tra l'altro anche ringrazio, per dire appunto che la Biblioteca Oliveriana è a tutti gli effetti una biblioteca e quindi offre esattamente tutti i servizi che offrono le biblioteche in tutto il mondo. E quindi noi abbiamo tutto il nostro patrimonio che è a disposizione di chi vuole consultarlo, senza nessuna distinzione. Abbiamo anche il servizio di prestito, chiaramente solo per una parte del patrimonio, ovviamente le cose più antiche, pregiate, preziose, quelle non possono uscire dalla biblioteca. Abbiamo il servizio di prestito interbibliotecario e in più le nostre sale sono anche assolutamente disponibili come sala studio. Qui faccio una piccola parentesi perché chiaramente adesso in questo momento è tutto molto più difficile, complicato. Anche noi siamo soggetti, come tutto il mondo, alle conseguenze della pandemia e quindi siamo sempre a leggere bene anche tra le righe i decreti del Presidente del Consiglio perché alcune volte ci lasciano aperti, altre volte ci chiudono. In questo momento dovremmo essere aperti secondo le ultime disposizioni, però su prenotazione. Quindi con il contingentamento noi abbiamo anche ridotto molto chiaramente la possibilità, insomma il numero degli utenti che possono stare contemporaneamente in biblioteca, però comunque ci siamo. Siamo aperti e siamo disponibili, facciamo servizi, servizi poi anche di ricerca. Insomma facciamo tutto quello che fanno le altre biblioteche. A proposito di quello che fanno le altre, mi era rimasto impresso, leggendolo da qualche parte, quest'idea del libro che resta in quarantena quando viene restituito. Cioè come funziona esattamente? Io vengo e prendo un libro in prestito, un tipico prestito. Tra l'altro una cosa da sottolineare che è incredibile, ma molti non lo sanno, le biblioteche e i libri li prestano gratuitamente. Cioè non è un biblio noleggio. Ma fa ridere, ma non è un biblio noleggio, è proprio un posto dove i libri si possono andare a prendere gratis. Una volta uno mi è cascato, come diciamo noi a Pesaro, in fastidio quando l'ha scoperto. Come? Ma i libri si possono prendere gratuitamente? Certo, questo è uno dei lavori, dei servizi che propone la biblioteca. Allora, io vengo, prendo, scelgo, eccetera, lo porto via. Quando te lo riporto, nei termini giusti, il libro deve stare in quarantena? Sì, deve stare in quarantena. Adesso anche questo non è proprio più così determinato come era ad esempio a maggio, quando abbiamo riaperto dopo il primo lockdown. Comunque la quarantena semplicemente funziona nel modo, cioè praticamente noi prendiamo il libro, lo mettiamo in una stanza riservata, chiuso in buste di plastica, o comunque in buste, dove segniamo la data in cui è stato consultato e poi, a seconda delle disposizioni, il Ministero aveva indicato dieci giorni, altri avevano detto che anche tre o cinque potevano essere sufficienti. Il libro viene in qualche modo dimenticato lì per dieci giorni, dopodiché viene rimesso in circolazione. Questo perché, appunto, secondo quello che dicevano gli esperti del settore, c'era la possibilità di una sopravvivenza del virus anche nella carta, per cui per maggior tutela e maggior sicurezza si preferiva di seguire questa prassi. C'è buona frequentazione in termini numerici, Covid permettendo, eccetera, eccetera, eccetera? Allora, io devo dire sì che c'è una bella frequentazione e soprattutto c'è una grande richiesta. Devo dire che in quest'ultimo anno, sembra quasi paradossale, ma la richiesta è quasi aumentata. Siamo stati molto contattati, poi chiaramente anche con i servizi a distanza, perché poi quello che noi facciamo è anche quello, cioè noi forniamo anche servizi a distanza, quindi sia consulenze, informazioni, ma anche riproduzione di documenti. Quindi mandiamo documenti riprodotti in immagine o in pdf, se qualcuno, insomma, non può venire in biblioteca, per le varie motivazioni che possiamo immaginare. E in questo periodo devo dire che abbiamo avuto numerose richieste, molte richieste, e anche, soprattutto, anche un'attenzione, ecco, al momento di apertura e chiusura, già in anticipo, insomma, ci chiedono, ma sarete aperti lunedì? Possiamo venire a studiare? Possiamo venire a consultare? E ci sono state anche diverse persone che hanno fatto un po' incetta. Parlavamo prima del supermercato, quando c'è stato questo correre, no? A fare scorte. Devo dire che anche da noi sono venuti a fare scorte. O per letture, anche così, se vogliamo, anche di piacere o di divertimento, o anche persone che avevano necessità, comunque, di garantirsi la possibilità di lavorare sui documenti che stavano studiando, e quindi hanno fatto un po', si sono fatti un po', insomma, si sono assicurati di avere comunque la loro quantità di cose da leggere e da studiare. Un'altra delle cose che probabilmente è utile far sapere o ricordare ai nostri concittadini è anche dov'è la biblioteca, perché, secondo me, c'è questa idea un po' generica, sì, è lì un po' in centro, sotto, molti sanno come ci arrivano, però magari non sanno la via esatta. Io, per esempio, ci arrivo scendendo dalla montatina del conservatorio, perché poi fa parte dello stesso edificio, tutto sommato, da dietro. Non precisamente, noi siamo in via Mazza 97. E quell'edificio lì non è prolungando sopra la montatina? Siamo nello stesso quartiere, se vogliamo, oppure del Palazzo Livieri, che peraltro era la prima sede, la sede originale della biblioteca, però adesso non siamo nello stesso palazzo, il nostro è Palazzo Almerici, separati da via Giordani, cioè siamo separati veramente da pochi metri della via Giordani, e siamo proprio sotto il conservatorio. Sotto il conservatorio. Sotto il conservatorio. Però è in un palazzo straordinario, bellissimo, e molto suggestivo, al punto che, al di là del venirci a prendere il libro, eccetera, è bello anche chiedere di fare qualche bella visita guidata ai luoghi un po' segreti, insomma, o perlomeno non aperti sempre e comunque a tutti. Sì, infatti questa era una delle iniziative e attività che facevamo fino a, diciamo, fino al febbraio dell'anno scorso. Eravamo aperti anche in momenti straordinari, ad esempio le stradomeniche, cercavamo sempre di essere aperti in quelle occasioni, proprio per dare la possibilità a chi aveva piacere di farlo, di visitare le stanze che solitamente non sono aperte al pubblico. Anche perché, ecco, una cosa che molto spesso percepisco, è che gli utenti pensano che la biblioteca coliveriana, anche per quelli che sono entrati in biblioteca, si esaurisca nelle sale, insomma, le sale di lettura, le sale adiacenti, l'ingresso, eccetera. In realtà non è così, assolutamente non è così, ma la biblioteca coliveriana si disperde in tre piani, tre piani del Palazzo Almerici, ed è piuttosto grande, insomma, molto articolata, è anche piena di tantissime cose che ancora devono essere, anche in parte, un po' scoperte, ma ci stiamo lavorando. E infatti quando facevamo, appunto, le visite, anche in occasione dell'estradomenico, anche in altre occasioni, avevamo proprio piacere di portare più gente possibile a vedere questi spazi che solitamente sono, appunto, sono inaccessibili perché sono destinati in gran parte a deposito. E tra l'altro ci sono anche dei libri molto preziosi. Certo. Che meritano di essere custoditi. Ecco, facendo un po' la differenza rispetto alle altre biblioteche, quindi ritornando alla tua prima domanda, è chiaro che la differenza della Biblioteca Oliveriana è che la Biblioteca Oliveriana conserva un patrimonio assolutamente, diciamo, prezioso, pregiato, e soprattutto, vabbè, che volge un po' lo sguardo all'antico. Noi partiamo, ovviamente, dai reperti archeologici, perché comunque anche il museo fa parte della stessa istituzione, nascono insieme biblioteche e museo, quindi non possono essere considerate due entità separate, autonome. Quindi le nostre testimonianze vanno appunto dai reperti archeologici per arrivare comunque fino ai giorni nostri, ma incentrandosi essenzialmente sui periodi più antichi, che vanno per quanto riguarda il libro, chiaramente dalla seconda metà del 1400, cioè da quando è nata la stampa, fino a tutto il 1800. E' chiaro che all'interno di questa documentazione ci sono anche delle cose particolarmente pregiate e preziose, ma l'interesse, secondo me, insomma, questo esprime una mia opinione personale, l'interesse è soprattutto quello di vedere la relazione che c'è tra tutta questa quantità di volume e di documentazione, perché è proprio l'insieme della raccolta che poi la rende in qualche modo particolare e anche unica. insieme poi chiaramente ai libri, perché non abbiamo soltanto libri, abbiamo anche tanti documenti manoscritti, abbiamo l'archivio storico del comune di Pesero, dei comuni soppressi, gli archivi delle più importanti famiglie pesaresi, non so, mi viene in mente Perticari, Cassi, Mamiani, Antaldi, eccetera, eccetera. E poi abbiamo anche documentazione un po' anche diversa, abbiamo le monete, le medaglie, abbiamo le carte geografiche, i disegni, e poi anche le fotografie, visto che non siamo soltanto proprio antichi, ma siamo anche contemporanei in qualche misura. Infatti volevo arrivare lì, cioè naturalmente una biblioteca storica è frutto di donazioni, di momenti importanti nei quali sono stati dati dei contributi importanti. continuano ad arrivare le donazioni, sì, quello sicuramente, e continuiamo anche per quello che è possibile, continuiamo anche ad acquistare. Abbiamo avuto in questo anno così sfortunato in realtà, però il Ministero ha voluto incoraggiare il mercato del libro e ha elargito, insomma, dei contributi importanti per l'acquisto libro e qui devo dire che quest'anno siamo riusciti, quindi nel 2020 siamo riusciti, quindi ad esempio ad acquistare, quindi a rinnovare e a anche mettere, insomma, a disposizione degli utenti una buona quantità di testi nuovi. Quindi sì, le acquisizioni arrivano per donazione, per acquisto, e poi, vabbè, questa è una cosa un po' un po' più tecnica, però comunque la dico, noi siamo anche biblioteca di deposito legale, quindi tutto quello che viene stampato nella provincia di Pesaro-Urbino deve arrivare, e per disposizione legislativa, deve arrivare in biblioteca, deve arrivare da noi. Quindi comunque la biblioteca oliveriana, come tutte le biblioteche, è un organismo che cresce, a questo dico, faccio un riferimento a una delle norme bibliotecarie più antiche e comunque anche più solide a cui tutti quanti ci rifacciamo. Io ho visto qua che tu hai un percorso anche scolastico, biblioteconomia presso l'Università di Urbino, per cui, diciamo, è una passione vera, insomma, che nasce addirittura sui banchi di scuola, come si potrebbe dire. Sui banchi di scuola, beh, è stata la mia prima passione, in realtà è stata la musica, perché io ho cominciato a frequentare Pesaro, che ero proprio una ragazzina, perché ho frequentato il conservatorio, quindi quella è stata la prima passione. Strumento, strumento, pianoforte. Pianoforte, diplomata? Sì. Diplomata in pianoforte, insegnate. Diplomata in pianoforte. E poi dopo, dalla biblioteca, sono arrivata ai libri, per varie vicende, vabbè, così vicissitudini, anche di molti anni fa, sono arrivata ai libri, e sono arrivata in Oliveriana nel 1997. E devo dire che, più della passione dei libri, poi da quel momento in poi, ho avuto la passione per la biblioteca, per l'Oliveriana, perché è stata una, direi quasi una folgorazione, quella che ho avuto in biblioteca, perché è un posto straordinario, è un posto molto affascinante, più ci si sta, più è ammagliante, devo dire la verità. Insomma, quest'idea delle biblioteche polverose, basta, è ora di togliere la di mezzo. No, togliamocela, togliamoci l'idea delle biblioteche polverose, assolutamente sì, non lo siamo, insieme ai musei, probabilmente non lo siamo neanche mai stati. Non è nero, che sono luoghi noiosi, polverosi, e non è niente, per cui questo qui, lo eliminiamo proprio, finalmente, anche dall'immaginario, e da tutto quanto. Sì, poi invito tutti a venirci a trovare, secondo quello che sarà possibile fare, per vedere che, non siamo affatto polverosi. Esatto, Allora, alla fine, nel sondaggio, tu cosa avresti messo? Libri cartacei o libri digitali, o e-book? Allora, io avrei detto libri cartacei distinto, però poi confesso anche di aver comprato un e-reader pochi mesi fa, il mio primo e-reader, perché in effetti anche l'e-book ha un'utilità, è una valenza che non possiamo assolutamente far finta, che non ci sia. Cioè, ad esempio, quello dello spazio, noi siamo un po' tutti quanti angosciati dalle problemi di spazio, sia in casa che noi, altrettanto in biblioteca. Il fatto di avere comunque a disposizione tante documentazioni, tanti libri, in un piccolissimo spazio, quello rende l'iridere sicuramente interessante. Il fascino della carta, il fascino poi della carta antica, non ne parliamo, il fatto anche proprio del rapporto fisico, che può esserci con un libro, questo è sostituibile. Se 400, 500 anni fa fosse esistito l'iridere, non esisterebbero cose incredibili, come la biblioteca, come tutti i suoi libri antichi, da sfogliare, da toccare, da sentire, di cui avere la massima cura. No, io ho una posizione simile, ma più sbilanciata, nel senso che anche io ho comprato un Kindle qualche tempo fa, ormai parecchi anni fa, però quelle poche cose che leggo anche sul Kindle, è il mio, che ha deciso di risuonare nel momento inopportuno, quelle poche cose che leggo sul Kindle, in realtà poi, fino a che non le ho comprate in cartaccio, è come se non le avessi lette, per cui proprio, siamo ai confini della malattia mentale, praticamente, perché l'idea di dominare, cioè prendere un libro in mano, è come dominare tutto il libro nella sua interezza, invece l'iridere, facendoti vedere, videata per videata, ti dà solo il momento, non hai la percezione di quanto hai letto, di quanto leggerai, non lo so, mi dà questa sensazione qui, poi andare avanti e indietro, è vero che tecnicamente si può, ma a me piace ogni tanto andare a rivedere, per cui io avrei votato cartaccio, per essere chiari, anche perché io fortunatamente, devo dire la verità, non ho problemi di spazio, ho una casa grande, per cui ho librerie gigantesche, esatto, praticamente dedicata a quello, per cui ho la fortuna. Allora, chiudiamo, abbiamo veramente pochi minuti, una biblioteca non è solo un luogo, ma è anche un attivatore culturale. È una frase giusta, anche per la biblioteca liberiana? Assolutamente sì, infatti anche noi, per quello che possiamo, abbiamo fatto, e facciamo, e faremo, tante iniziative culturali, che vanno in diverse direzioni, da una parte quella di comunque proporre dei contenuti culturali, che riteniamo interessanti per gli utenti, dall'altra anche quella di far conoscere le nostre collezioni, le nostre attività, che comunque, se non chiaramente, se non vengono comunicate, poi hanno anche, chiaramente non vengono conosciute. E soprattutto, ecco, una cosa che a cui io tengo molto, in maniera molto particolare, è quello del rapporto con i ragazzi. E in effetti, avevamo iniziato, sempre questo, prima del Covid, ad avere un intenso rapporto con i ragazzi, con gli studenti, pur non essendo una biblioteca, chiaramente dedicata, esplicitamente ai ragazzi, ma volevamo proprio farli entrare molto in biblioteca, farli conoscere, e devo dire che anche, ci siamo anche riusciti a creare anche dei canali, direi, interessanti di dialogo con i ragazzi, mi viene da pensare alla Caccia al Tesoro, a cui avevamo partecipato, ed era stato bellissimo. Quindi sì, siamo anche attivatori culturali, e abbiamo già in programma di ripartire da qui a pochissime settimane, adesso con delle iniziative che per il momento dovranno essere per forza online, ma non vediamo l'ora di riavere persone che vengono in biblioteca, di riavere insomma il contatto reale con tutti i nostri utenti. Bene, allora prendetevi un appunto che una delle prime visite appena si potrà fare, non sarà in un negozio qualunque o in un posto non meglio definito, ma sarà alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro per andare a trovare Brunella, Paolini, che comunque vi accoglierà, ma anche e soprattutto per andare a scoprire bene tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Adesso noi andiamo con la dedica musicale, perché devi sapere che poi questo programma è scandito da uno spazio pubblicitario e da una dedica musicale che ho voluto portare in ambito televisivo dai miei trascorsi radiofonici e ci dovrebbe essere anche, sì esatto, perché tramite il numero poi queste dediche arrivano. Buon inizio settimana, grazie a tutti i telespettatori, sono Marco, grazie Marco, volevo condividere con voi la mia soddisfazione della vincita di 70 euro, bravo Marco, con gratte vinci da un euro. Spero di trasmettervi un po' della mia fortuna e speriamo anche noi e magari speriamo che anche per te la prossima vincita sia anche un po' più cospicua, ma intanto i 70 euro non si buttano via. Inoltre noi salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando dalla diretta Facebook, tra cui Matteo, Daniele, Luisa, e cartaccio 91, digitale 9%, fantastico, questo è al momento il risultato del sondaggio, cartaccio 91, digitale 9%, siamo molto orgogliosi di avere telespettatori che si esprimono in questo modo, la dedica musicale, la dedica, la agganciamo al pezzo What a Wonderful World di Louis Armstrong, proprio per ricordare una delle notizie che ho dato sulla ricorrenza del giorno, un primo concerto jazz fatto a New York da una band incredibile di cui Armstrong faceva parte. Ci vediamo subito dopo la pubblicità condonato Bria Monte di Fido Speed. Che mondo meraviglioso, What a Wonderful World e che pezzo meraviglioso cantato da Louis Armstrong che abbiamo scelto. Vi anticipo anche che dalla prossima puntata faremo anche un escursus verso dei video musicali realizzati da gruppi locali. Ci spostiamo un po' sull'argomento e vediamo poi, anzi colgo l'occasione per invitare chi ci sta seguendo a prendere in considerazione questo. Avete o conoscete qualcuno che suona e che ha realizzato un bel video però, deve essere un bel video da trasmettere in televisione, fatecelo sapere, comunicatcelo al numero 351 708 9977 oppure a casarossini chiocciolarossinitv.it e noi prenderemo nota dei link possibilmente pubblicati su YouTube o comunque da inviare attraverso i canali digitali e poi proporremo i vostri i vostri video. Bene, allora, entriamo di nuovo in trasmissione, siamo qui con Donato Bria Monte, buongiorno Donato, molto piacere di conoscerti di persona, visto che ci siamo sentiti per telefono. Allora, il microfono, come se cantassi? Come se cantassi? Grazie per l'invito, innanzitutto. Grazie a te, tu sei titolare di questa attività, Fido Speed, di cui parliamo fra un attimo, però, attenzione, perché anche con te non posso esimermi dall'andare a vedere cosa dice il librone. Sono curioso. E sono curioso anch'io, anche perché questo libro a volte ci prende a volte no, ma quando ci prende è una cosa incredibile. Il giorno del sovrintendente, il 30 ottobre, quando ne hanno l'occasione, i nati il 30 ottobre di solito sono dei buoni manager che hanno un vero talento nel dirigere gli altri, personalità alquanto eclettiche riescono spesso a portare le loro conoscenze su uno specifico settore di attività a sostegno di un altro tradizionalmente non collegato. per cui qualcosa c'è, qualche collegamento adesso vedremo. Non ci crederai ma tra i nati in questo giorno c'è Cristoforo Colombo, non è una robetta da poco, anche Diego Armando Maradona e Ezra Pound e Paul Valery. Ezra Pound e Paul Valery sono due scrittori poeti eccetera. Allora, organizzato tra i pregi per cui ci siamo, sicuro di sé direi abbastanza, abbastanza, magari un po' meno davanti alla televisione però va bene lo stesso e attento. I difetti li vuoi sapere? Sì. Li diciamo. Incline a trascurarsi e apprensivo. No. Forse no, 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 apprensivo. Allora, guarda, io sono contento di una cosa, questo libro ci prende su un sacco di cose quasi mai sui difetti e questo è bello perché li nascondiamo. È bello, esatto, perché noi non li ammetteremo mai però insomma così. Il significato del nome è letterale, donato, donato vuol dire donato, regalato, offerto, no? Per cui ci siamo, ci siamo. Perché ci siamo? Perché la tua attività, questa Fido Speed è un'idea, un'intuizione che nasce proprio dalla voglia di donare un servizio. Esatto, esatto, sì. Capiamoci, è un'attività commerciale per cui non è che, però l'idea nasce proprio da questo, Raccontaci un po'. Esatto, allora, Fido Speed nasce a fine febbraio, inizio marzo con l'incompensa del lockdown e vuole fare un servizio di consegna farmace a domicilio. Quindi è un servizio di facile fruizione, il cliente chiama la farmacia di fiducia, noi andiamo in farmacia, ritiriamo e consegniamo a domicilio, quindi è molto semplice. Tra l'altro, come altri servizi facciamo, andiamo a ritirare gli esami, le ricette, quelle rosse che non possono essere spegnite telematicamente, quindi facendo attenzione ai dati sensibili e quelli sanitari speciali, quindi andiamo in busta chiusa, ritiriamo e poi consegniamo o alla farmacia di fiducia oppure all'indirizzo che il cliente ci ha detto, ci ha indicato. Quindi è un servizio che non vuole assolutamente entrare in concorrenza con le farmacie perché noi non siamo farmacisti, non siamo niente, è un servizio che vogliamo dare, anzi, può essere addirittura complementare le farmacie perché come già spiegavo prima è un servizio che noi andiamo a ritirare in tutte le farmacie di Pesaro, Fano e Vallefoglia ma anche le farmacie possono utilizzare il nostro servizio, usare la qualità del nostro servizio quindi a nome loro andiamo a consegnare i farmaci ai propri clienti. Allora, ti fermo un attimo, faccio un piccolo riassunto e così chiarisco una battuta. Fido Speed, la prima cosa che viene in mente sono i cani per cui invece qui siamo nell'ambito della fiducia perché qui si tratta di avere fiducia perché avere fiducia perché la logica e qui in questo sono sicuro che qualcuno a casa dirà molto interessante mi prendo nota e alla regia puntualissima aveva appunto messo il cartello che poi dopo rimetteremo mi prendo nota dei riferimenti perché mi può servire allora la logica è questa il vostro medico vi prescrive un farmaco voi avete una farmacia di fiducia per cui voi vi rivolgete alla farmacia telefonicamente tra l'altro in questo momento non è solo un discorso di avere difficoltà a muoversi è anche un discorso un po' legato all'idea che proprio in farmacia dove ci vanno quelli che stanno male devo andare assolutamente sì assolutamente sì c'è anche un posto a timore le sale d'aspetto adesso per carità tutto in massima sicurezza però uno dice se posso evitare ci va qualcun altro al posto mio allora praticamente in questa logica qui voi fate tutta l'operazione che è legata alla ricetta facendola dare dal medico alla farmacia alla quale fate l'ordine ovviamente la vostra farmacia di fiducia che appunto si fida dell'ordine telefonico e in questo momento in questa fase entra in campo donato che fa semplicemente quello che va in farmacia ritira per conto di basta la parola in quel caso lì o no sì 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 io dico ritiro a nome di Paolo esatto io ritiro e consegno infatti grazie per la domanda perché è importante Fido Speed è nato proprio perché la fiducia perché poi ho visto che la cosa bella di questo lavoro servizio è che la fiducia nasce un rapporto di fiducia tra me e cliente non è più un servizio così fatto estemporaneamente nasce proprio un rapporto umano e quella è la cosa che mi piace di più e che è più interessante e si devono fidare tutti si deve fidare la farmacia che sta dando è vero che te la paghi però sta dando la busta a una persona e si deve fidarsi che tu la porterai al destinatario assolutamente sì si fida il destinatario perché ti incarica e aspetta che tu vai il tutto con che tempistiche generalmente noi di solito in 3-4 ore massimo riusciamo a evadere l'ordine però di solito a volte è successo anche in 20 minuti magari uno era già lì perché sì sì perché magari vai a ritirare in farmacia è una cosa urgente io prendo vado subito magari nel mio giro ero lì vicino e riesco a consegnare quindi riusciamo i tempi sono quelli poi ovviamente anche bisogna vedere se la farmacia ha a disposizione il medicinale oppure no però i tempi comunque in giornata quello sicuro e lì è la seconda parte fido non è il cane ma è fiducia speed vuol dire velocità per cui questo è un altro degli elementi lavoriamo tantissimo perché è importante un altro degli elementi importanti come ti muovi ti muovi con la bici elettrica come è di moda adesso oppure hai altre sempre sull'elettrico io ho una macchina completamente elettrica quindi zero emissioni per noi anche questo qua è importante perché facciamo un servizio dove inquiniamo zero e quindi riusciamo a muoverci bene tra l'altro con l'auto elettrica si può arrivare dovunque no? le ZTL a Pesaro no però si può parcheggiare gratuitamente quindi già è un bel servizio diciamo a parte le biciclette o le due ruote l'auto elettrica è il mezzo che ti risolve gran parte assolutamente sì perché comunque coprendo una zona molto molto grande che Pesaro, Fano e Vallefoglia in bici sarebbe un po' complicato certo certo perché poi ricordiamo che fai tutto te faccio tutto io al momento non hai una riesco a gestirmi tutto proprio perché come dicevi prima nei pregi l'organizzazione io sono molto organizzato ho tutta un'organizzazione mentale che mi aiuta a gestire tutto il servizio è attivabile ecco lo rivediamo grazie ad Andrea in regia lo rivediamo è attivabile attraverso un numero di whatsapp rispondi anche al telefono oppure solo messaggi assolutamente si risponde per cui è attivabile sia con una telefonata vocale che con un messaggio o con un messaggio vocale oppure andando a quei riferimenti del sito e da lì probabilmente ci sarà un indirizzo mail o ci sono i link c'è tutto il servizio sì sì la richiesta di contatto tutto quanto quindi è molto semplice e lineare il sito quindi vi faccio le fruizioni anche quello lì perfetto questa bella idea a un certo punto a te te ne ha fatte nascere delle altre perché hai detto ma se io sono riuscito a conquistarmi la fiducia su un tema così importante come la salute a questo punto questa fiducia me la posso rigiocare e posso continuare ad aumentare questa conquista della fiducia anche su altri argomenti sempre legati al trasporto assolutamente sì col passare del tempo dei mesi ho visto che c'erano delle esigenze maggiori che potevano aiutare sempre i clienti nell'avere dei servizi diversi e migliori quindi ampliare un servizio quindi cosa abbiamo fatto? ha detto facciamo le commissioni al posto tuo questo che vuol dire io simpaticamente lo dico sono il tuo maggiordomo di fiducia perfetto perché? perché io svolgo quelle commissioni che tu magari non riesci a svolgere in quel determinato momento quindi io vado cosa faccio? vado in posta ritiro le raccomandate spedisco le raccomandate vado a ritirare l'acqua ti porto le casse dell'acqua a casa faccio queste commissioni ritiro i regali presso i negozi quindi faccio le commissioni che tu non riesci a fare quindi anche questo qua visto che è un servizio che sto molto apprezzato perché riesco ad abbinare sia i farmaci e altri servizi con una chiamata solo dico sempre quindi sono contento e sto andando sempre più avanti sto avendo sempre di più la fiducia delle persone perché ripeto il rapporto umano fa la differenza e questo mi sta aiutando sto vedendo che la gente lo recepisce e quindi sono contento e speriamo di continuare così e magari di coprire sempre più persone e zone quello sicuramente la regia ha continuato a mandare in onda cose interessanti legate a tua attività adesso ci arriviamo anche a questo prima mi piaceva avere questa immagine mentale di Donato con la sua smart possiamo dirlo con la sua smart elettrica che gira una pallina da flipper impazzita in giro e che le uniche soste e gli unici momenti in cui secondo me ti riposi un attimo è quando fai la fila alle poste per forza di cose per forza di cose quello sicuro quello sicuro non la scavaichi quello è il momento di quello è il momento di relax gli altri sono tutti agitati quando arrivano alle poste Donato invece no perché dicono finalmente adesso per 5 minuti devo stare qui per forza e lì serve anche per organizzarmi perché sono fermo vedo chi c'è nel paraggi insomma assolutamente sì è tutto chiaramente un'attività mi viene da pensare ogni tanto faccio questa riflessione a come la tecnologia della quale siamo da una parte schiavi dalla parte eccetera però in certi casi non solo sia utile ma sia necessaria e attivi delle vere e proprie attività cioè un'attività come quella che hai impostato te senza la tecnologia di oggi sarebbe impossibile da gestire se ci voleva il centralinista come taxi anzi però per fortuna c'è anche questa occasione qui perché alla fine è un servizio in più quindi non è che uno vuole togliere gente dalla farmacia o vuole è un servizio che noi riusciamo a dare e che grazie all'online abbiamo visto poi adesso con il lockdown è esploso letteralmente quindi è un servizio in più ed è molto utile secondo me certo prima di arrivare all'ultimo che poi è il passo successivo quello in cui finalmente la pallina del flipper si ferma un attimo chiudiamo il cerchio vogliamo parlare un po' dei prezzi delle tariffe perché mi ricordo che ne abbiamo parlato al telefono del tipo tariffe trasparenti vanno dette massima trasparenza sai il servizio è talmente comunque di qualità da come l'hai proposto ed è talmente un servizio quasi fa pensare un servizio d'elite cioè mi portano la roba a casa non è una roba a poco che distinto viene da pensare mamma mia chissà quanto mi costa non me lo posso permettere e allora chiariamo bene infatti io dico sempre quando mi chiamano quando mi chiamano per sapere per avere informazioni io dico sempre parto sempre dal prezzo perché per me è fondamentale la trasparenza quindi come funziona la consegna dei farmaci è 2 euro a consegna se devo andare anche a ritirare le ricette dal medico ho 3 euro quindi 2 euro la consegna più 1 euro del ritiro della ricetta per le commissioni 3 euro e 50 tutte le commissioni al posto tuo 4 euro quello della posta perché come dicevamo prima la posta purtroppo mi crea dei disagi maggiori per le tempistiche perché soffermo quindi su quello però prezzi trasparenti non cambiano mai sono sempre quei infatti questo mi collego perché una volta mi ha detto io chiamavo un'altra attività che non faccio il nome sono partito da 3 euro e 50 poi 5 euro poi 10 euro adesso chiamo sempre 3 te perché tu hai quel prezzo e rimane sempre quello quindi è importante quello esatto allora questo è un impegno preciso di Donato di Fido Speed che tra l'altro preso davanti alle telecamere di Rossini TV in questo momento proprio non ti puoi più perché questo non solo siamo in diretta e ovviamente c'è a casa chi sta ma questa va anche in replica e va in replica colgo l'occasione per ricordare oggi pomeriggio alle 16 questa sera alle 22 domani pomeriggio alle 15.30 e domenica ma resta anche online per cui tutte le volte ormai quello che hai detto è detto più di così lo riconfermo è più di un impegno dal notario assolutamente sì è più di un impegno dal notario allora abbiamo sufficienti minuti secondo me 4 minuti 3-4 minuti per parlare del salto il salto al mondo dell'online che è stata un'altra bella intuizione secondo me sì allora praticamente con questi due servizi qua volevo chiudere diciamo il cerchio e ho creato una piattaforma online e-commerce dove che si chiama Fido Commerce dove ho voluto raggruppare la mia idea è quella di raggruppare dei produttori locali che fanno prodotti alimentari di altissima qualità adesso ne abbiamo già una quindicina di produttori e in settimana se ne aggiungeranno altri la mia idea qual è oltre a quei servizi che riesco a offrirvi perché non offrire per fare assistenza a 360 gradi anche degli generi alimentari quali adesso vediamo lì il vino c'è l'olio c'è il miele confetture marmellate piadina il tartufo quindi ho voluto dare modo anche ai produttori locali che magari non riescono sia economicamente che magari anche strutturalmente a creare una piattaforma e-commerce a dare spazio a loro attraverso la mia piattaforma e far vendere i loro prodotti perché loro oltre ai loro canali riescono così con l'online ad avere anche questa possibilità qui secondo me è una cosa molto interessante spero che sempre più persone sempre più produttori capiscono l'idea e si avvalgano del servizio allora facciamo capire bene il meccanismo è questo Donato sta selezionando ha già selezionato ma sta continuando a selezionare produttori di generi alimentari di alta qualità ai quali offre la possibilità di essere su un'unica piattaforma e questo è molto importante su un'unica piattaforma raggiungibile da un'unica azione questo per poter comporre un carrello fatto da prodotti che provengono da più negozi questa è la priorità questi prodotti una volta che io li ho ordinati con le tecniche dell'e-commerce per cui io li ordino le metto nel mio carrello virtuale le pago probabilmente con la carta di credito quello che sarà eccetera poi come mi arriva la casa? la forza è proprio questa perché noi andiamo direttamente il cliente fa l'ordine noi andiamo dal produttore ritiriamo e quindi noi siamo intermediari noi cosa facciamo? noi andiamo a ritirare l'ordine e lo consegniamo a casa quindi questo qua è la cosa che è molto importante perché noi lavoriamo noi facciamo una tramite quindi noi diamo visibilità perché ogni produttore ha la sua pagina personale con i suoi prodotti quindi il cliente va sul sito e può comprare l'olio può comprare il vino non deve per forza andare sul chi vende il vino per comprare il vino chi vende l'olio per comprare l'olio qua con una piattaforma riesce ad avere più prodotti di varie categorie e la cosa geniale è proprio questa cioè che alla fine io li scelgo e l'esercente non ha la necessità di attrezzarsi per la consegna esatto per mettere in piedi tutto un meccanismo di e-commerce perché quel meccanismo digitale e virtuale tecnico burocratico e tutto il resto l'hai già organizzato te per cui il vantaggio per l'esercente è chiaro il vantaggio per l'acquirente è che arrivi tu a portargli tutto e sei appena andato a fare il giro ma poi loro non devono fare nient'altro che prepararmi l'ordine quindi loro veramente non devono fare niente faccio tutto quanto io quindi quello è molto apprezzato infatti i produttori mi ringraziano per questo perché oltre alla visibilità che hanno tramite perché noi abbiamo i nostri social su facebook su instagram siamo presenti oltre ad abbiamo il sito quindi loro hanno una visibilità molto ampia in più riesco a gestire anche gli ordini quindi loro devono solo prepararmi il pacchettino io lo consegno è molto importante voglio dirlo che sono prodotti veramente è una filiera a chilometro zero perché sono solo prodotti locali gli 11 chilometri li fai te per portare quelle poche centinaia di metri li fa Donato per cui il resto è tutto a chilometro zero bene io mi auguro di essere stato chiaro e di avere offerto a chi è a casa oltre che a Donato che è qui con noi la possibilità di capire bene i termini di questo sistema che è un sistema sicuramente innovativo basato lo ripeto perché è molto importante sulla fiducia in chi l'ha ideato e soprattutto in chi lo realizza e questi sono due elementi molto importanti perché sono quelli che fanno sì che cose di questo genere entrino non solo nelle abitudini ma anche nel cuore delle persone per cui questo è un po' la logica e questo è il motivo per cui siamo stati molto contenti di averti oggi con noi mi auguro che a casa abbiano la stessa sensazione positiva Donato Pesarese di adozione però no 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 sì sì di adozione sì 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 io perché arrivo dalla Basilicata 20 anni a Torino e sono sei anni qua quindi sì sì di adozione esatto per cui Pesarese di adozione comunque un'adozione come quella con Alberto Moretti all'inizio che abbiamo avuto oggi ospite un'adozione già ben fortemente integrata ormai sì hai trovato il modo di farti conoscere nel modo migliore dalla nostra città grazie grazie allora grazie a te noi abbiamo concluso anche oggi la puntata di Casa Rossini abbiamo avuto ospiti Donato Breamonte titolare di Fido Speed con cui abbiamo appena parlato che è ancora qui con noi Brunella Paolini della Biblioteca Oliveriana Alberto Moretti proprietario di Spazio Conad del Rossini Center l'appuntamento oltre che con tutte le altre repliche di cui ho parlato un attimo fa e anche con la prossima diretta mercoledì mattina mi sono dimenticato niente tutto a posto benissimo allora se non mi sono dimenticato niente grazie a tutti buona giornata restate sempre con noi e con i programmi di Rossini TV Donato grazie grazie a tutti quanti voi grazie a te Paolo e pronto a ripartire assolutamente sì vado subito in preaccensione riparto subito perfetto grazie ancora a presto grazie a tutti